Vaccino Covid, la somministrazione della terza dose in Piemonte avverrà con chiamata diretta. Il cambiamento della programmazione che è stata decisa dal governo, che ha aperto a tutte le fasce d'età, ci ha imposto naturalmente anche una revisione del meccanismo piemontese. Le persone quando compiono i 5 mesi dall'inoculazione della seconda dose ricevono un messaggio sul proprio telefonino e sulla mail che hanno comunicato che dà una convocazione con data certa da parte della regione a queste persone. Prima della scadenza del tuo Green Pass potrai ottenere la terza dose che ti darà diritto a questo super Green Pass che come sapete darà delle nuove regole di utilizzo per la socialità e per la vita di tutte le persone. Naturalmente quella è la data che ti propone la regione, non hai più bisogno di andare sul portale, non hai bisogno di far null'altro che presentarti il giorno che verrai convocato per essere vaccinato. Fermarestando, la possibilità, se quella data è una data in cui sei impossibilitato a partecipare alla somministrazione del vaccino, tu potrai modificarla andando sul portale il Piemonte ti vaccina oppure recandoti presso le farmacie o i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. L'avere il governo deciso la scorsa settimana di aprire a tutta la popolazione impone di potenziare nuovamente la capacità vaccinale della nostra regione che è tarata per le prossime settimane tra le 30 e le 35 mila dosi al giorno perché questo è il livello che ci permette e ci permetterà di completare con terza dose tutte le persone che si sono sottoposte al ciclo vaccinale completo. Imprese e formazione, nasce in Piemonte un nuovo sistema Academy con investimenti da 14 milioni su Torino e Biella. Presentiamo la rivoluzione della formazione in Piemonte che passa dal sistema delle Academy. Le Academy con le quali partiamo sono quella della mobilità sostenibile, della filiera del tessile e delle green jobs. Una rivoluzione per andare ad incrociare al meglio possibile quel gap che oggi ahimè esiste tra domande e offerta di lavoro. Tramite il sistema Academy gli imprenditori stessi andranno a scrivere insieme alle agenzie formative quelli che sono i corsi che servono con le tempistiche che servono, rendendo quindi la formazione molto più mirata, molto più snella, molto più veloce, creando quindi opportunità per i nostri lavoratori, garantendo tutta quella che è la necessità di formazione continua e in questo modo anche andando ad incrementare la competitività delle nostre imprese che tengono alto quel made in Italy che ci rende famosi nel mondo. Presentato agli Aerospace and Defense Meetings il progetto della città dell'aerospazio, un vero e proprio ecosistema in cui fondere in sinergia formazione, ricerca, innovazione e impresa. Abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro eccezionale quindi abbiamo iniziato a parlare con le grandi imprese, con le università e abbiamo tirato fuori un progetto che secondo me potrà essere realizzato se sapremo naturalmente convincere Roma sulla bontà di questo progetto. Noi siamo convinti di farcela, il Vice Ministro Picchetto ci sta dando una grande mano, partiremo da Colau e speriamo di portare i soldi alla realizzazione già nel 2026. I numeri sono alti, sono oltre 20 mila occupati, 7 miliardi di investimenti fatturato e oltre 350 imprese sul nostro territorio che compongono questo settore aerospaziale. In più abbiamo le tre più grandi imprese mondiali, Tales, Leonardo e Collins oltre naturalmente Meccar e altre e quindi crediamo che possa veramente essere un driver fondamentale. Sono 27 i musei piemontesi che riceveranno per la prima volta dopo 7 anni un contributo dalla regione per riqualificare gli spazi espositivi e abbattere le barriere architettoniche. I progetti serviranno a mettere in sicurezza i locali e a migliorare l'accessibilità per le persone diversamente abili, ma sono previsti anche adeguamenti alla rete digitale e la creazione di nuovi percorsi con guide specializzate. Il Museo Civico di Casale Monferrato, ad esempio, ha presentato un progetto per rendere accessibili i beni archeologici attraverso un armadio interattivo in stile Camera delle Meraviglie per ricreare un'atmosfera da collezionismo di fine 800. L'investimento previsto è di circa 405.000 euro.